Lussemburgo, Stati Uniti, Cina. Qual è lo stato più ricco? Dipende. Se consideriamo il PIL o il PIL a parità di potere d'acquisto, Stati Uniti e Cina stravincono. Ma se invece teniamo conto del PIL pro capite, il Lussemburgo surclassa entrambe le superpotenze. PIL, PIL pro capite, PIL a parità di potere d'acquisto. Ma dal punto di vista tecnico, cos'è sto PIL? Perché lo sentiamo ovunque. In questo video cerchiamo di capire i concetti chiave grazie alle classifiche degli stati più ricchi del mondo. La parolina PIL è una sigla che sta per prodotto interno lordo e in breve è la ricchezza che un paese produce al suo interno di solito nell'arco di un anno. Questa ricchezza ha un valore economico che si riassume in una cifra espressa in dollari. Ad esempio, nel 2022 gli Stati Uniti hanno prodotto una ricchezza pari a circa 25 mila miliardi di dollari, più di qualunque altro paese del mondo. Ecco, 25 mila miliardi di dollari è il PIL degli Stati Uniti nel 2022. La Cina segue in seconda posizione con circa 18 mila miliardi di dollari. Ma cosa vuol dire però che uno Stato produce ricchezza? In realtà non è niente di sensazionale. Semplificando, in un paese vengono continuamente prodotti e realizzati beni e servizi, che hanno un valore e vengono venduti e acquistati. Veicoli, macchinari, cibo, visite mediche, trasporti pubblici, chi più ne ha più ne metta. Se sommiamo il valore di tutti questi beni e servizi, prodotti di solito appunto in un anno in uno specifico paese, otteniamo la ricchezza che questo paese ha prodotto, cioè per l'appunto il suo PIL. Contate che per quanto riguarda i beni, si tiene conto dei beni finiti. Cosa significa? Per farvi un esempio, si tiene conto dell'automobile bella impacchettata, terminata, e non delle materie prime e dei materiali venduti e utilizzati per costruirla, ad esempio, che ne so, il ferro. Perfetto, visto in sintesi che cos'è il PIL, torniamo ai dati e stavolta consideriamo la classifica degli stati più ricchi del mondo in base al PIL pro capite. In questo caso, nel 2022, in prima posizione c'è il Lussemburgo, con 128 mila dollari di PIL pro capite. Ecco, ma cosa vuol dire pro capite e come si arriva a questo dato? Pro capite è un'espressione latina e significa a testa. Quindi PIL pro capite significa proprio PIL a testa, PIL per persona. Perciò, in Lussemburgo, nel 2022, ogni persona ha prodotto in media una ricchezza di 128 mila dollari. Per ottenere il dato del PIL pro capite basta fare una divisione. Si prende il PIL di uno stato in un anno e lo si divide per il numero dei suoi abitanti. In questo modo si ottiene la ricchezza prodotta in media da un cittadino di quel paese in quell'anno o in altri termini si scopre il reddito medio di un cittadino in quel paese, cioè quel che ha guadagnato. Ovviamente per l'appunto si tratta di una media. Ci sarà chi in quell'anno avrà percepito un reddito molto più alto e chi un reddito molto più basso. Ora, com'è possibile che gli Stati Uniti dominino la classifica del PIL mentre invece in quella del PIL pro capite trionfi il Lussemburgo? La ragione è che anche se in totale ogni anno gli Stati Uniti producono un'enorme ricchezza, sono abitati da moltissime persone. Il Lussemburgo invece in proporzione produce una buona ricchezza totale ma suddivisa per pochi abitanti. Facciamo rapidamente il calcolo in diretta confrontando questi due paesi in modo che sia chiaro. Andiamo alla lavagna. Partiamo dal PIL pro capite degli Stati Uniti. Abbiamo un PIL di 25 mila miliardi di dollari che dobbiamo dividere per una popolazione di 332 milioni di abitanti. Il risultato fa 75 mila dollari per abitante. Vediamo invece adesso il Lussemburgo nella parte qui sotto. Abbiamo un PIL molto inferiore a quello americano di 82 miliardi di dollari ma anche la popolazione molto più ridotta. Sono solo 640 mila abitanti più o meno come Palermo. Dividiamo le due cose e il risultato è di 128 mila dollari per abitante circa. Et voilà. Quindi il cittadino medio del Lussemburgo produce in media più ricchezza all'anno del cittadino degli Stati Uniti. Cioè ha un reddito molto maggiore, guadagna di più. Ora c'è un problema. PIL e PIL pro capite sono indicatori diciamo assoluti. Ci danno un'indicazione di massima della ricchezza ma sono abbastanza incompleti per tutta una serie di motivi. Ad esempio non tengono in considerazione il fatto che il costo della vita in un paese può essere molto diverso dal costo della vita in un altro paese e questo però ha delle conseguenze importanti. Facciamo un esempio con un bene di prima necessità, il latte. Magari in uno stato un litro di latte costa un dollaro mentre in un altro stato costa tre dollari. Questo significa che nel secondo stato il costo della vita è tre volte più alto. Ecco ponendo il caso che questi due stati abbiano lo stesso PIL oppure lo stesso PIL pro capite è naturale che nei fatti sia più ricco lo stato che ha il costo della vita minore perché a parità di ricchezza in quello stato si possono acquistare più cose perché costano meno. Per tenere in considerazione questo aspetto sono stati inventati altri due indicatori economici che si chiamano PIL a parità di potere di acquisto e PIL pro capite a parità di potere di acquisto e vengono chiamati anche per brevità PIL a PPA e PIL pro capite a PPA. Ora che cos'è il potere di acquisto? È la capacità di acquistare più o meno prodotti con una certa cifra a disposizione che dipende proprio da quanto costano i prodotti in un particolare luogo paese. Ecco mettendo a confronto il costo della vita nei vari paesi del mondo con il costo della vita negli Stati Uniti che funzionano un pochino da metro di paragone abbiamo la classifica dei paesi più ricchi al mondo a parità di potere d'acquisto. Per quanto riguarda il PIL a PPA la Cina scavalca gli Stati Uniti in prima posizione con un equivalente di circa 30 mila miliardi di dollari di ricchezza prodotta nel 2022. Non è un caso. In Cina in proporzione i prodotti costano enormemente meno rispetto agli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece il PIL pro capite a PPA il Lussemburgo mantiene la sua prima posizione e anzi migliora un pochino il dato del suo PIL pro capite quello semplice. Nel 2022 la ricchezza media per persona prodotta sarebbe stata di circa 142 mila dollari. Questo semplificando significa che come in Cina anche in Lussemburgo in realtà il costo della vita è un pochino più basso rispetto agli Stati Uniti. E per quanto riguarda l'Italia come siamo posizionati nelle varie classifiche di cui abbiamo parlato oggi? Velocemente eccoci qua. Siamo decimi al mondo in base al PIL, 33 esimi rispetto al PIL pro capite, dodicesimi considerando il PIL la parità di potere d'acquisto e 31 esimi in base al PIL pro capite a parità di potere d'acquisto. Per chiudere il video facciamo qualche considerazione. Anzitutto potreste trovare dei dati del PIL leggermente diversi rispetto a quelli che abbiamo usato noi e che sono abbastanza validi del Fondo Monetario Internazionale. E il motivo è semplice. Calcolare concretamente il PIL è complesso e il risultato ha un certo margine di errore e di approssimazione. Inoltre per stilare la classifica degli Stati più ricchi del mondo si possono anche usare altri indicatori rispetto ai quattro che abbiamo utilizzato in questo video e che però non abbiamo il tempo di trattare. Infine come avete visto in questo video abbiamo considerato la ricchezza economica, nuda e cruda, non il benessere, che è un'altra cosa. Uno Stato infatti può essere complessivamente molto ricco ma spendere male i suoi soldi e quindi non creare benessere per i suoi cittadini. Essere ricchi e vivere bene insomma non vanno per forza a braccetto. A proposito di questa cosa fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe un video sui limiti del PIL come indicatore e sui principali indici alternativi utilizzati per misurare il benessere non la ricchezza di uno Stato. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie mille per averci seguito e ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie a tutti!